con questo elegante documento redatto dalla cancelleria papale scritto su pergamena d'agnello il pontifice leone decimo richiede alla duchessa lucrezia di perurare la liberazione di un sudito pontificio imprigionato per ordine del di lei consorte il duca alfonso primo a comporre questo elegante messaggio in latino fu proprio pietro bembo dal marzo 1513 segretario dei brevi erano passati ormai dieci anni dal periodo in cui il giovane letterato aveva tenuto una tenera corrispondenza epistolare con lucrezia i rapporti tra loro sono testimoniati da ben 49 lettere conservate in stampe e manoscritti per lucrezia le lettere raccolte in un manoscritto conservato nella biblioteca ambrosiana di milano per bembo invece non possediamo che rielaborazioni di quelle lettere che da lui erano state scelte per la pubblicazione a stampa in altre parole pare che l'unico sopravvissuto dei messaggi bembiani a lucrezia in originale sia costituito esclusivamente da questo elegante documento di curia conservato nell'archivio segreto estense grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.